A gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove clausole commerciali internazionali dette Incoterms. L'applicazione di queste clausole, emesse dalla Camera di Commercio Internazionale, è facoltativa. Infatti, esse si applicano se correttamente integrate nel contratto di vendita e concordate tra l'acquirente e il venditore. Queste regole semplificano le diverse questioni relative alla consegna delle merci. Gli Incoterms 2020 contengono tra l'altro le seguenti novità. DAT diventa DPU e significa reso al luogo di destinazione scaricato. La clausola DAT viene rinominata perché, nella pratica, la parola terminale ha creato confusione. Tuttavia, il contenuto rimane sostanzialmente identico. La clausola CIP prevede una copertura assicurativa minima più elevata. Le nuove regole forniscono preziose definizioni supplementari per le merci trasportate con veicoli propri o, nel caso venga richiesta, la prova di carico del trasporto marittimo FCA. Inoltre, i nuovi Incoterms tengono conto delle accresciute esigenze di sicurezza nel trasporto internazionale di merci. Avete domande sugli Incoterms 2020? Contattateci s-ge.com slash export help